Noi non siamo nativi digitali e quindi dobbiamo imparare e non tutti hanno la capacità, il tempo per poter imparare questo approccio nuovo verso questo mondo nuovo e allora dobbiamo sostenerli. Si chiama Arpensa Digitale, un nuovo servizio dedicato ai cittadini di Arezzo e destinato ad accrescere le loro competenze e l'inclusione digitale, ovvero una guida all'uso dei servizi online attiva presso lo sportello unico di Piazza Fanfani. Una postazione appositamente creata per dare assistenza al cittadino che intende percorrere questo cammino della transizione digitale e quindi rendersi indipendente dalla necessità di dover venire allo sportello unico per chiedere un certificato, fare un pagamento e fare tutto quello che normalmente si fa qui. Lo può fare tranquillamente da casa, non tutti sono in grado di imparare al volo come si fa e quindi qui mettiamo a disposizione una postazione con del personale che si dedica di volta in volta ad un cittadino per dargli tutte le istruzioni necessarie per renderlo indipendente sia dalla presenza qui sia dall'assistenza che gli viene da da quel momento. Attualmente in Italia solo il 46% della popolazione è in possesso delle competenze digitali di base a fronte del 54% della media europea. Qui ad accoglierlo troveranno i facilitatori che sono persone del Comune e della Fraternità dei Laici che daranno tutto il loro supporto per poter aiutare il cittadino a districarsi tra i tanti servizi e le tante offerte che offre la rete. Il progetto gestito dalla Fraternità dei Laici è finanziato con fondi PNRR.